Allora, buongiorno. Oggi, come sapete, è la giornata mondiale della salute e la Fondazione Salmoiraghi e Viganò la dedica proprio alle buone informazioni per quanto riguarda la prevenzione per la vista e la bellezza. Bellezza che ovviamente, come comprenderete bene, tutti apprezziamo proprio grazie alla vista. La bellezza del mondo, la bellezza di ogni cosa la vediamo attraverso gli occhi grazie alla luce. La luce è amica ma a volte anche nemica per i nostri occhi perché i nostri occhi vedono attraverso la luce ma dalla luce vanno protetti. Di questo parleremo oggi con il dottor Luigi Mele, accanto a me oculista, la dottoressa Annalisa Pizzetti che è dermatologa, il regista Enrico Vanzina, anche scrittore di grandissimo successo e il fotografo Adolfo Franzò. Presenti nel pubblico anche delle blogger, attrici che comunque interagiranno e faranno delle domande ma le domande ai relatori potete farle ovviamente tutti quanti voi. Dottor Luigi Mele, dicevamo, lei oculista, un flash velocissimo, come funziona la vista? Noi abbiamo delle informazioni che dagli occhi vengono trasmessi al cervello, qual è il meccanismo che si innesta? Il meccanismo è complesso però cercherò di essere rapidissimo. Praticamente la luce incide sugli oggetti, quindi abbiamo una luce incidente, gli oggetti riflettono questa luce, una luce riflessa, questa luce entra all'interno di questo sistema che è praticamente un sistema di recettore di questa luce che è l'occhio, d'accordo? attraverso quel foro che abbiamo accetto che è la pupilla, d'accordo? E arriva su quello che è il tessuto nobile dell'occhio che è la retina. La retina è un tessuto mirabile perché? Perché in effetti ha il compito di trasformare questa fonte di energia che è la luce in un impulso elettrico che poi attraverso un sistema molto complesso, una cascata enzimatica che poi viaggerà attraverso varie stazioni del cervello per arrivare alla porzione più posteriore del cervello che è il lobo occipitale, che ha il compito di riconvertire questo impulso elettrico in un'immagine detta così e semplice. Il problema qual è? E' che in effetti durante questo percorso dal fino al lobo occipitale e il ritorno ci sono varie stazioni, rele, diciamo così, tra cui l'ipotalamo, il corpo calloso, il cervelletto, che cosa fanno? Interconnettono questo lobo occipitale con le altre parti del cervello e quindi a quello che è un semplice risultato visivo di vedere una cosa associamo anche quello che è un risultato percettivo perché verrà stimolata la parte del cervello del buttata alla percezione dell'immagine e ancora di più a un livello sensitivo, cioè la sensazione di che ci trasmette quella percezione. Un esempio rapidissimo proprio la sindrome di Stendhal. Io guardo un quadro, guardo un'opera d'arte e mi sento male, cioè l'ho assunto l'immagine, l'ho trasformata, l'ho percepita e l'ho trasformata in una sensazione. Questo è in grandi linee come funziona il sistema visivo. Bene, c'è la dottoressa Pizzetti che è una dermatologa grande esperta di pelle da un punto di vista clinico ma anche da un punto di vista diciamo di bellezza estetico proprio della pelle. Pelle e luce, dicevamo, c'è un legame che è un legame forte, un legame d'amore ma anche un legame di pericolo perché la luce non rappresenta soltanto un beneficio per la nostra epidermide, ma per la nostra pelle, ma rappresenta anche un rischio in alcuni momenti. Perché? Come ci proteggiamo soprattutto? Dunque, io inizio sempre da dermatologa parlando della cute come l'organismo più esteso del nostro corpo, alla pari di tutti gli altri organi. La cute è un organo e quindi addirittura è il più grande, è quello che ci interfaccia con l'esterno. Quindi l'interfaccia primaria è proprio con la nostra luce. Per cui abbiamo degli effetti benefici che più o meno tutti conosciamo, ma anche a livello del sistema nervoso perché in realtà l'origine della nostra cute a livello neuroectodermico è proprio una connessione col cervello e quindi tutti i benefici, anche a livello di endorfine, di benefici quando noi ci mettiamo al sole, lo avvertiamo a livello proprio di percezione emotiva. E quindi parliamo del bene, della cute, del sole e cute, ma parliamo, ahimè, anche del male. Perché purtroppo il raggio solare, ecco, anche qui diciamo non entriamo nello specifico, però bisogna dire, questo lo sappiamo tutti, che lo spettro solare è composto da vari raggi. Raggi UV, raggi UVB e raggi UVC. Allora, gli UVC non sono quelli pericolosi, gli UVA lo sappiamo tutti e gli UVB. Gli UVA, allora, per fare una cosa semplice e molto schematica, gli UVA sono quelli che abbiamo durante tutta la giornata. Gli UVB sono quelli che vi dicono sempre, fate attenzione alle ore di punta, specie nei nostri bambini, e quindi sono quelle che, nelle ore di punta, comprensive tra le 10 e le 16, sono quelle diciamo più pericolose. Gli UVA sono pericolosi anche a livello di danni genetici, a lungo termine. Quindi gli UVA sono quelli che provocano l'invecchiamento da fotosensibilità. Oltre al crono edging, noi abbiamo il foto edging, che è quello dovuto alla luce solare. Quelli lo provocano gli UVA. Gli UVB sono invece quelli che danno il danno biologico più importante a livello del DNA. Per capirci schematicamente, a livello dei tumori cutanei, voi sapete ci sono due tipi di tumori. I tumori che derivano dalla cute, quindi dall'epidermide. Allora, i raggi UVB provocano una proliferazione dell'epidermide, induriscono l'epidermide. A livello di invecchiamento provocano la rucutis romboidalis, avete presente il contadino, il velista, il maestro di sci, che pelle indurita che hanno? Quello sono dovuti ai raggi UVB che percepiscono tutto il giorno e dipendono dalle latitudini, delle altitudini. Poi ho visto che ci saranno delle domande specifiche. Invece gli UVA non dipendono dalle altitudini e altitudini, ce l'abbiamo tutto il giorno. Gli UVB sono quelli invece che provocano il melanoma. Il melanoma è il tumore più infausto a livello di organo, ma proprio anche di tutti gli altri organi. Perché? È insidioso, non ce ne accorgiamo, alle volte sembra un semplice neo. Io vi dico che tutti e due questi tumori, ahimè, sono ampiamente simulati dalla luce solare. Intanto a proposito di luce, degli effetti fantastici e delle immagini meravigliose nei film di Enrico Vanzina, regista che noi amiamo tantissimo, come dicevamo in apertura anche un grande scrittore. Allora Enrico, quando i nostri occhi naturalmente vedono il nostro cervello, riconosce un'altra parte di noi naturalmente che vede si emoziona. E' qui che nasce la bellezza, anche la bellezza delle scene dei tuoi film? Volevo riagganciarmi un attimo, perché quando la dottoressa parlava non posso dimenticare che mio fratello è morto con un melanoma, dovuto al sole. Per cui sono un esempio di testimonianza diretta diretta della gravità. Un melanoma che fu sconfitto molti, molti anni fa, sembrava silente, dopo tantissimi anni ed è tornato fuori e poi quando è tornato fuori in pochissimo tempo si è portato via mio fratello. Scusate ma non posso fare a meno di testimoniare questa. Allora il cinema è un racconto per immagini. Noi pensiamo che il cinema ci sono dei attori che parlano e che dicono delle cose, c'è una storia che va avanti. In realtà il cinema esisteva prima di quello che vediamo noi oggi, che si chiamava il cinema muto. Il cinema muto era un cinema dove le persone andavano al cinema, c'era un signore che suonava il pianoforte, c'era qualche ditascalia, però si capiva tutto. Perché il cinema è proprio inventato sul fatto che ci sono delle immagini in movimento. Queste immagini in movimento raccontano spesso molto meglio delle parole. I brutti film sono i film che ci sono troppe parole. Perché spesso noi capiamo. Allora ho fatto questa piccola premessa per dirvi che il cinema essendo legato all'immagine è legato a qualcosa di importantissimo che è la visione. Il cinema non lo puoi fare se non hai studiato un po' la pittura e se non hai stabilito con te stesso un certo gusto, una certa tua visione personale delle luci. Perché le luci, così come la dottoressa diceva dei raggi, per esempio le luci più belle sono quelle, se uno potesse avere i soldi per farlo, qualcuno l'ha fatto, sono quelle del mattino e quelle della sera. C'è un film meraviglioso che si chiama Lawrence da rabbia e David Lean girava soltanto tra le sei del mattino e le otto e mezzo del mattino e tra le sei di sera e le otto di sera. Perché c'è questa golden hour meravigliosa di luce che rende tutto più emozionante. La luce serve al cinema per creare delle atmosfere, per raccontare, ma la luce serve soprattutto a vedere. come ci ha spiegato il nostro amico oculista, è questo oggetto che rimanda, che entra, che viene elaborato. Serve a vedere e con la luce tu puoi far capire delle cose che forse nella vita normale non riusciamo a vedere. Questa è la magia del cinema. Tu con una luce di un certo tipo puoi creare tensione, mistero, amore, allegria. A seconda da come la usi tu sai che trasmetterai un'emozione. Per cui credo veramente che il cinema, attraverso la luce, può farci capire, può darci delle sensazioni, ci può far vedere meglio quello che noi non vediamo. Io racconto sempre una cosa, quando faccio delle lezioni all'università, ci sono delle persone che arrivano su una spiaggia bellissima, famosa, è un sito, tutte le mattine arrivano dei pullman, scaricano, tutti fanno foto, adesso tutti fa fotografo. Poi dopo torni a casa e vedi che lì c'è passato Degas, che ha fatto un quadro della stessa spiaggia. E tu hai capito che quella, la spiaggia vera, era quella che ha dipinto lui, non quella che hai fotografato tu. La stessa parola fotografia vuol dire scrivere con la luce. Quindi per noi fotografi soprattutto l'utilizzare la luce come pennello, come gestione è quello che ti dà l'impronta poi a una fotografia piuttosto che a un'altra. Adesso tutti quanti siamo abituati a fotografare, a scattare con i telefonini, facciamo tutte le foto, vengono bene perché giustamente è tutto automatizzato. Però la gestione della luce è una peculiarità particolare che bisogna saper gestire dal punto di vista fotografico in questo caso ed apprezzare. Io personalmente ho avuto uno step, parlando della luce, uno step professionale in alto, diciamo, quando vidi la prima volta è il film di Stanley Kubrick, Barry Lyndon, che mi piacque come film, però la cosa, non mi destò curiosità più di un altro film, insomma mi piacque come film. Quando mi dissero che quel film era stato girato assolutamente con luce naturale o con luce artificiale prodotta dalle candele che Stanley Kubrick aveva fatto fare delle lenti particolari, degli obiettivi particolari con un'apertura molto importante per afferrare la luce che c'era nell'ambiente dove giravano le scene, questa cosa qui mi incuriosi tantissimo. Andai a rivedere il film cercando di veramente capire come era possibile fare un film soltanto con la luce esistente o con quelle delle candele, lui aveva fatto addirittura una fabbrica di candele per illuminare i set e da lì mi sono appassionato al fatto di poter lavorare quando possibile con la luce naturale che trovo nei posti, nelle location che io scelgo per scattare. La luce naturale è la cosa migliore che ci può essere rispetto alle luci di flash artificiali, eccetera, che sono complementari volendo. Quindi dal punto di vista della luce questo qua è il discorso del... Come no? No, quello che sta dicendo lui è proprio la Bibbia, è esattamente così, anche perché l'uso della luce può essere veramente fake, oggi si parla tanto di fake, no? Se voi guardate oggi le pubblicità, le fotografie di moda, le stesse fotografie che molte ragazze non le biasimo ma è ormai un'abitudine, i ritocchi, si mette tanta 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 luce e altro che il lavoro della dottoressa scompare, per cui tanta luce può aiutare ma è finta, invece quello che diceva lui è la verità. Con gli occhi si racconta tutto. Proteggere la vista è un po' anche il tema centrale dell'incontro di oggi, come li proteggiamo gli occhi? E poi mi interessa capire anche in che orari del giorno e con quali occhiali vanno protetti. La vista è uno, è un senso, ma è forse uno dei più belli e dei più importanti che possiamo avere perché come ho detto prima ci dà la possibilità di vedere, percepire, sentire sono livelli proprio scettivi a scalare diversi che elaborati dal nostro cervello. Ma tutto questo avviene grazie alla luce, se non c'è la luce non si vede, appare chiaro. La luce come ha detto giustamente la collega è fatta da varie forme di energia, da varie lunghezze d'onda che è il modo per quantificare una grandezza energetica. Gli UV sono i primi, poi dopo troviamo il cosiddetto spettro del visibile e infine l'infrarosso. Tutto questo a decrescere di energia, cioè gli UV sono quelli a più alto carico energetico per arrivare all'infrarosso a più basso, questo per quanto la visione. Ma poi dopo ci sono le onde radio, andiamo sempre più giù. La particolarità qual è? La particolarità è che l'occhio, a differenza della pelle, e qui chiedo conforto alla collega, non percepisce l'UV. Noi l'UV non lo vediamo. Se noi vediamo è perché è lo spettro del visibile di quella luce che va dal blu al rosso che ci permette di vedere. Quindi noi abbiamo un nostro organismo che è l'occhio, che è esposto a un UV che non percepiamo. Quando un nemico non lo vediamo non lo possiamo prevenire, non lo possiamo affrontare. Noi siamo esseri superiori nella scala evolutiva, noi siamo predatori, quindi abbiamo dei meccanismi che ci permettono di proteggere da tutto. Non staremmo qui oggi a parlare se non fossimo predatori, saremmo già estinti, ve lo assicuro. Allora i danni che possono essere causati all'occhio, a parte che l'occhio è misto perché c'è il bulbo culare, ma c'è anche una parte più anteriore che sono le palpebre, che mi insegna la collega, una plica cutanea a tutti gli effetti, è cute. Quindi di conseguenza sono esposte perché giustamente mancano degli strati, sono più sottili rispetto agli strati cutanei normali e roba varia. Ma vi faccio un altro esempio, la cornea che è la parte più anteriore, che è quella dove appoggiamo la lente a contatto, ha la stessa identica composizione biochimica della pelle. Epitelio, collagene, endotelio. Qual è la differenza? Non è vascolarizzata. Se noi vediamo la pelle così colorata, perché c'è la melanina e i vasi, la cornea non è vascolarizzata e non ha melanina. Quindi sempre quello è il discorso. I danni di questi raggi solari quali sono? A livello palpebrale, e qui ci insegna la dottoressa, dermatiti, tumori cutanei e roba varia. A livello oculare abbiamo le cosiddette keratoconciutiviti. L'epitelio che riveste la cornea viene seccato, scusatemi il termine, asciugato e danneggiato sia chimicamente che termicamente da questi raggi, che sono gli UV. Il cristallino, quello che noi conosciamo come cataratta, viene danneggiato da raggi UV e raggi infrarossi. Infine la retina, la retina viene danneggiata non dagli UV perché gli UV non arrivano alla retina, ne arrivano pochissime, ma dallo spettro visibile, dalla luce vera e propria. E allora come proteggere gli occhi? La dottoressa risponderebbe alle creme solari, giusto? No, la pelle, scusami, le creme solari. Se andiamo a vedere sui bugiardini delle creme solari, è per fortuna che c'è scritto, evitare il contatto con il contorno occhi. La crema solare ha delle sostanze all'interno che non sono compatibili con la superficie oculare, quindi non possono emessere sul contorno occhi e se vanno all'intorno dell'occhio danneggiano. Qual è l'unico sistema di protezione degli occhi? Semplice, gli occhiali. Gli occhiali chiari e da sole. Perché dico chiari? Perché l'occhiale chiaro già di per sé contempla all'interno un filtro anti-UV. Avere un occhiale chiaro vuol dire già proteggersi dai raggi ultravioletti. Che sia ben chiaro. Se è chiaro questo, l'occhiale da sole che deve avere un colore particolare, qua entra un altro discorso, la percezione del colore. L'occhiale da sole deve avere un colore tale per cui ci deve abbattere quello che è lo spettro del visibile perché l'ultravioletto è già stato abbattuto dalla lente in sé, dal materiale. Ma non ci deve atterrare la percezione colorimetrica. Per fare questo ci sono dei colori fondamentali standard che sono il grigio, il verde e il marrone. Il grigio è quello più neutro, è quello che altera di meno il colore. Il verde e il marrone cercano, sbilanciano un po' sulla frequenza del colore. Ma perché? Perché in natura nulla si crea e nulla si distrugge. Se io aumento il verde, riduco il rosso. Non posso annullare il rosso e guadagnare verde. È un bilanciamento. Quindi gli occhiali da sole devono avere un filtro UV che è insito nel materiale e quindi devono essere certificati per questo. Un occhiale non certificato è un occhiale che non protegge dall'UV. E poi devono avere dei colori particolari di questi tre che vi ho detto, i cosiddetti colori semplici, fondamentali. Perché è importante saperlo questo? perché l'oculista, che rappresenta il primo step per la protezione eccetera, saprà consigliare al paziente quale colore. Il colore verde è più specifico per il soggetto ipermetrope. Il colore rosso è più specifico, marrone, per il soggetto miope. Un astigmatico preferirà il grigio. E uno che non ha niente? Non esiste. Non esiste. L'emetropia è un concetto astratto. La mia domanda ovviamente verte su chi sono i soggetti a maggior rischio da tutelare rispetto alla luce. E anche nel caso specifico dei bambini, perché qui siamo tutte mamme, quindi parliamo di bambini. Quando, cosa portarci dietro sempre con noi, oltre alla crema solare e agli occhiali da sole? E se doverle utilizzare sempre o in determinati momenti circoscritti della giornata? Parlo per gli occhi. Rispondo per gli occhi. Allora sì, occhiali da sole e cappellino. Quando usare gli occhiali da sole? Sempre. Bella domanda, eh? Bella risposta, non ce l'aspettavo. No, le spiego. Attenzione. No, eh, eh, eh. Allora, non pensiamo all'occhiale da sole come quello per necessariamente sempre scuro. Esistono degli occhiali che si chiamano fotocromatici, che si scuriscono a seconda dell'intensità luminosa. Noi li possiamo tenere anche oltre l'orario solare. Pomeriggio, le 5, le 6, si schiariscono un po', ma restano comunque un po' scuri e proteggono. Come funzionano i filtri? I filtri hanno uno scopo molto semplice. Non quello di annullare, non quello di abbattere, ma quello di modulare la luce che arriva all'occhio. La nostra bravura è proprio quella di modularla. Non va abbattuta, d'accordo? Non va eliminata. Va semplicemente modulata perché noi dobbiamo garantire quella che è la funzionalità dell'occhio, d'accordo? Quindi di conseguenza i filtri devono essere certificati con quei colori che vi ho detto prima. Quando avete questa garanzia state tranquilli che non state facendo nessun danno, anzi state facendo un piacere a tutti coloro che li usano. Ma a questo ci vuole una joint venture molto stretta tra quello che l'oculista e l'ottico, perché l'oculista deve visitare, deve capire qual è la situazione visiva del paziente e direi che questo problema ti serve questo tipo di filtro. L'ottico darà quel filtro certificato, eccetera. È una joint venture, una collaborazione stretta. La lente a contatto in sé, per il suo materiale, che può essere PMMA, può essere silicone, idrogelle e roba, ha già il filtro UV, ma non protegge dal resto perché non è colorata. Però ha già insito il processo. Le vecchie lenti a contatto non ce l'avevano. Adesso per normativa devono avere il UV. Ecco la certificazione che vi dicevo. E invece ci sono tantissimi sport come il kite, il pad, eccetera. Come si fa a proteggere gli occhi in uno sport del genere? Esistono occhiali dedicati allo sport che non tanto nella tecnologia ottica della lente quanto nella montatura sono dedicati allo sport. Abbiamo montature dedicate loro allo sport morbide, flessibili, aderenti. In alternativa abbiamo un altro coro che sono le lenti a contatto. Cioè noi possiamo usare tanto gli occhiali quanto anche nell'attività sportiva perché ci sono occhiali e le lenti a contatto dedicate per questo. Intanto passiamo alla dottoressa Annalisa Pizzetti per capire in che orari prendere il sole d'estate. L'abbiamo detto ma ripetiamolo. E come proteggerci? Anche d'inverno poi se ci dobbiamo proteggere quando il sole non c'è. Sì. Allora come dicevo gli UVA ce l'abbiamo tutto il giorno e hanno un'intensità costante. Gli UVB invece cambiano di intensità a seconda degli orari e quindi sono molto più penetranti e dannosi negli orari fra le 10 e le 16. Inoltre risentono della latitudine e dell'altitudine. Quindi man mano che noi saliamo di altitudine aumentano addirittura di un 40% ogni mille metri e quindi è fondamentale. Più siamo in montagna e più ci dobbiamo proteggere indipendentemente dalle ore del giorno. E questo è uno. Poi abbiamo detto l'altitudine e longitudine nel senso che più ci avviciniamo all'equatore quindi a seconda dei paesi dove siamo e ci dobbiamo proteggere. Io consiglio sempre partire dalla 50 a più. Un attimino parlare del fototipo è importante per la scelta della protezione solare. Lì sappiamo i fototipi. I fototipi vanno dal soggetto, chiamiamolo quasi albino, rosso, che non ha proprio la melanina per difendersi minimamente dal sole. Noi dermatologi diciamo che resiste non più di 10 minuti, dopo 10 minuti si scotta. Perché vi dico questo? Perché è la soglia per cui dopo si misura l'SPF, cioè la protezione solare, la famosa scala, perché è sempre molto confusionaria. Poi dopo di lui c'è l'altro che è sempre biondo ma diciamo si brucia dopo 15-20 minuti. Poi c'è il castano che siamo la maggior parte, credo, in questa stanza, che può resistere anche 20 minuti. Poi c'è quello abbastanza scuro, caucasico, mezz'ora e poi c'è lo scuro di carnagione, 30-40 minuti. Che significa il fattore 30 che è il fattore 50? Che quel tipo biondo che vi ho detto che si brucia, che si scotta in 10 minuti lo deve moltiplicare per 50. Quindi alla fine che significa? Che potrebbe mettere anche un 30 ma lo deve mettere più spesso. Cioè quello che voglio dire è che non è che un 30 me lo metto adesso e mi protegge più di un 50 o meno di un 50. È il tempo che ci protegge. Questo è un dato fondamentale. Perché alle volte delle pazienti mi mischiano e mi dice metto 30 più 50. Non è che 50 più 30 fa 80. Questo è il concetto. Cioè ve lo voglio spiegare in maniera molto semplice anche per i nostri bambini. Poi contorno occhi. Contorno occhi giustamente come ha detto il collega, come il collo, come le mani, il dorso delle mani. Perché si invecchiano prima? Perché sono delle cuti che sono estremamente sottili e inoltre non contengono le nostre ghiandoli sodoribili per il sebaceo. Sono quelle che ci danno un pochino la pelle umettata, morbida, che si difende anche meglio l'umidità. Per cui sono assolutamente soggette alla disidratazione. Per cui le palpebre giustamente lo proteggerei. Io consiglio più l'occhiale anche a bambini piccoli. Prende tutti i bimbi cappellino proprio da sempre. Ma le nostre nonne che non avevano tutte queste informazioni le mettevano i cappellini e i bambini. Quindi evidentemente non c'era bisogno della scienza. Più che altro appunto la coscienza, la percezione. Quindi è fondamentale. L'occhiale protegge più di tutti. Perché la crema solare col sudore si scioglie. Quindi non è lì per lì la crema solare che ti dà fastidio e ti brucia. È che sciogliendosi col sudore penetra e non c'è una vera crema solare che non dà fastidio all'occhio. È giusto? Ma anche la crema idratante, anche con intorno gli occhi. La stessa cosa per quanto vi dicano che sono tollerabili. se vi entra un pochino nell'occhio, le blogger sono espertissime, brucia l'occhio. Quindi quella bisogna fare attenzione. Quindi queste diciamo sono un po' le regoline basiche però di pronto consumo insomma. E poi mi sono persa di quella protezione. E no, dicevamo anche d'inverno, avevo detto sì. Allora, la protezione, il protettivo solare deve avere la protezione sia per l'UVH che per l'UVB. Siccome abbiamo detto che l'UVB è quello più pericoloso, la proporzione deve essere una tre. Ma questo tutti i cosmetici con la protezione. E quindi le protezioni partono da un 15-20 che è per quel soggetto già abbronzato di per sé o che di per sé ha già della melanina che è il nostro protettivo naturale. Perché la melanina che noi produciamo dagli stati profondi, quando sale e ci abbronza dopo essa stessa è una protezione. Come però quando arriva quel danno cutaneo famoso, questa melanina improvvisamente impazzisce. C'è una sregolazione a livello genetico e c'è un'iperproliferazione dei melanociti che provocano questo accumulo di melanina pericolosissimo che con l'insulto solare va aumentando in maniera esponenziale e può diventare quel terribile tumore. Diverso è il tumore cutaneo provocato dagli altri raggi che invece è un ispessimento forte dell'epidermide e provoca il carcinoma basocellulare, gli strati basali dell'epidermide, spinocellulare che sono quelli più alti. Non sono tumori che portano a morte, però sono tumori che hanno una magnità locale. È come se pian pianino, avete mai sentito le keratosi che sono quelle cose un po' banali che a volte noi trascuriamo e non vanno trascurate neanche quelle. Andrebbero fatte come una semplice perruchina ma asportate perché quelle se te le tieni nel tempo, sono lentissimi i tempi dei carcinomi cutanei, però in ogni caso hanno una magnità locale. E quindi UVA e UVB vanno protetti sempre. Che poi ci si abbronza lo stesso, perché come ho detto, quello è solo un tempo. Quindi anche una persona scura, io mi abbronzo benissimo, mi metto la crema perché mi abbronzo, ho un'abbronzatura anzi molto più bella, molto più luminosa, perché prendo il sole in maniera graduale, evito la scottatura. La scottatura è un altro rischio altissimo. Se noi da giovani, una volta esistevano addirittura con gli specchi solari. La mia generazione l'ha usati, è quella che invecchia precocemente perché quelli provocano danni da invecchiamento importantissimo. E poi non abbiamo parlato di una cosa fondamentale che è lo sviluppo dei radicali liberi. Assolutamente, quello attraverso l'alimentazione anche, no? Non mi sembri mai di parlare. Un secondo, questo insulto solare provoca questo danno cellulare. Che cos'è? Si sviluppa questo radicale libero che ormai va, insomma, se ne parla tantissimo. Il radicale libero è un ossigeno singolo che è un gravissimo danno per tutte le cellule. E quindi la cosa fondamentale è che la cura è la prevenzione. I soggetti maggiormente esposti ai danni da radiazione a livello oculare, parlo, sono sicuramente i bambini e le persone anziane. Perché? I bambini perché hanno una maggiore trasparenza di tutto il diotto oculare. La corna è più trasparente, quindi filtra meno. Il cristallino è più trasparente e filtra meno. La retina non è ancora formata del tutto. Non ha quei sistemi di difesa nei confronti delle radiazioni ultraviolette che può avere delle radiazioni ultraviolette in generale che può avere un soggetto adulto. L'anziano altrettanto. I suoi meccanismi di difesa sono ridotti, sono abbassati. Perché? Perché si comincia, ma già dalla teneretà, un bambino che non porta gli occhiali da sole, non solo all'effetto diretto fototossico dell'agio solare. Va, come diceva giustamente la collega, all'effetto biochimico indotto. Perché comincia a secernere radicali liberi. I radicali liberi vengono contrastati da dei sistemi che si chiamano sistemi scavenger, che sono sistemi che produciamo nel nostro corpo o possiamo inserire con l'alimentazione. Ma fondamentalmente è meglio quelli che produciamo noi. Che il bambino non ha. L'anziano non li produce più. Quindi loro sono le due persone maggiormente esposte ai danni. Quindi oltre al giustissimo cappellino, il bambino di qualsiasi età, io lo dico sempre alle mie mamme che mi portano il piccolo bimbo, signora lo faccia stare al sole perché il sole fa bene. Ma assolutamente occhiali da sole di quelli fascianti esistono montature apposite con lenti dedicate sulla lente deve essere riportata a kids perché ha un fattore di protezione, così come per le creme, anche per gli occhiali, tale per cui ha una protezione maggiore nei confronti del bambino. Allora, gli anziani no, gli anziani la lente da sole certificata, filtrante, deve prevedere una visita oculistica però, attenzione, perché come sempre anche nel bambino c'è, perché un anziano solitamente è una persona che forse ha cominciato a soffrire un po' di cataratta. Ok? La cataratta altera non solo la quantità ma anche la qualità visiva. Rischio che se gli do una lente verde o una lente marrone gli altero ancora di più la percezione del colore. Ci sono lenti apposite per i soggetti portatori di cataratta con una colorazione particolare che può virare da grigio fino ad arrivare al rosso. Si fanno le prove, gli ottici certificati e competenti hanno i cosiddetti set di prova, cioè fanno provare proprio al paziente il colore ideale, lo fanno uscire fuori dal negozio. Guarda un po' come vedi, meglio così, meglio così, meglio così, si fanno questi test. Si possono fare anche a studio. Volevo sapere, ma la protezione 100 in realtà funziona oppure no? Perché io la prendo sempre, metto protezione 100 però c'è chi dice che funziona o meno. Ma veramente è questo dunque, sì, questa scala delle protezioni, ripeto, desta diverse diciamo inesattezze. Allora io l'ho spiegato, in realtà anche il 30 già ti progettegge totalmente, è il tempo che tu poi la metti. Quello quindi va valutato a chi la metti, io al bambino metterei solo 50 più. 100 più esiste, è una scala che in Italia non è approvata, perché il 50 più protegge totalmente. E pensi che la differenza fra un 30 più e un 50 più è che il 30 più è il 97%, il 50 più è il 98,5%. Capito? È la durata di quanto ti protegge prima che tu ti scotti. Perché è un concetto che non è facilissimo da capire. Quindi il 100 più in realtà ti protegge come un 50 più. Tant'è vero che il 100 più adesso in commercio c'è solo, non si possono dire, ma le sapete tutti. E noi dermatologi le usiamo soltanto a chi ha veramente un alto rischio di carcinoma o melanoma. Però per le persone normali e per i bambini il 50 più è la scala approvata a livello europeo. È vero che il collirio, quello che si compra, scade quasi subito? È giustissimo. Il motivo per cui siamo qua è questo, è comunicare con il sociale. Sì, il collirio una volta aperto dura non fino alla descadenza ma 28 giorni. Sono i cosiddetti colliri multidose, quelli che tengono il conservante all'interno. Semplicemente ci sono un'altra tipologia di colliri. Attenzione, sono quelli che sembrano delle micropipette che si aprono. Quelli si chiamano monodose ed sono monodose. Una volta aperti vanno stati buttati perché quelli non hanno il conservante si infettano. Nel momento che l'aria entra dentro si infettano. Quindi se li lasciamo aperti diventano i fei. Invece quello multidose, il boccettino classico, contiene il conservante all'interno del DTA e altri che lo rendono, mantengono sterile per 27-28 giorni. E le creme solari invece? Le creme solari mi raccomando dopo un anno vanno buttate. Quindi noi le apriamo però possono stare aperte. Sì, perché anche se contengono conservanti ma è sempre meglio avere meno conservanti e conservarla meno. Nel senso che è molto più pulita una crema che contiene meno conservanti, ma questo riguarda un po' tutti i cosmetici. Qual è il momento di luce? Che preferite durante la giornata? Per le foto e per le scene? La luce intanto, quello migliore per quanto mi riguarda è quello del mattino, presto. e assolutamente da evitare gli orari come per prendere il sole, per fare le foto, assolutamente da evitare la luce dalle 11 alle 3 di pomeriggio, anche alle 4 d'estate, perché è abbastanza a picco. Però le persone scattano lo stesso delle foto con quella luce lì e poi si vede dalla foto perché sono segnatissime, occhi scuri e oltre che fare male, mette in evidenza le uomini, i difetti soprattutto, vabbè che poi con i filtri, post-produzione, foto, ciò che è, diventa tutto fantastico. Però di partenza fa male sia alla pelle, quel tipo di luce, che alla fotografia. Enrico? No, io, essendo romano, penso che il momento più bello qua, non c'è al mondo, credo, è il tramonto. Il tramonto ha qualcosa di veramente speciale. Io vorrei chiudere dicendo una cosa. Ascoltando questi meravigliosi espertissimi che si occupano non solo della nostra salute ma anche del nostro aspetto fisico, che è molto importante, penso che questo tipo di incontri servirebbero a far diventare vero quello che è stato un film bellissimo, che è tratto da un racconto bellissimo di Scott Fitzgerald e che è quello che sta capitando a me oltretutto. Dobbiamo diventare tutti dei casi di Benjamin Button. Dobbiamo nascere vecchi e diventare sempre più giovani. Se lo ascoltiamo forse ci riusciamo. Grazie. Che bello. Allora io mi ero preparata una chiusura che ovviamente non faccio perché mi piace la chiusura che ha fatto Enrico Manzina e rovinerei tutto. Ringrazio ovviamente tutti per la vostra attenzione, i relatori e abbiamo un artista in particolare qui. Un applauso e grazie ancora. Alla prossima. Grazie.